Sei stata lì tra quasi tre mesi, un periodo in cui sei stata lontano da tutto. Sei tornata con il cuore libero? In realtà io sono partita che il mio cuore era libero, era solo un po' rotto. Comunque si ripara col tempo, non mi devo forzare io. Ti dico che non ho pensato a molte cose mentre ero lì perché dovevi sopravvivere. Quando sono partita il mio obiettivo era quello di lasciare tutto in Italia e invece poi dopo un po' ti accorgi che ti sei portata tutto il carico e te lo sei portato dietro. Era un gesto simbolico il fatto di aver lasciato in Honduras una lettera indirizzata a una persona importante? Quella lettera era indirizzata a me stessa in realtà, al coraggio e alla forza che ho avuto perché sono resa conto che io non avevo intenzione di vincere perché la mia vittoria era quella di aver deciso di partecipare. Perché sapevo che se fossi rimasta a casa mi sarei ammalata, non sarebbe andata così. Bianca, non hai avuto una vita particolarmente facile sull'Isola dei Famosi. Ci fu in diretta uno scontro anche abbastanza spiacevole con Elena Morali alla quale avresti detto prendo il doppio del vostro cachet. Sinceramente sono parole che ha detto lei, ho accusato e basta, nel senso che non sono scesa al suo livello. Ho una mia vita, ho la mia vita, ho un obiettivo nella mia vita. Non ho voluto veramente replicare perché sono state cose che inventate, punto e stop. Se ci sono delle persone che si svegliano la mattina e ti vogliono provocare per fare due salate in più, non mi faccio tirar dentro. Cardi racconta che tu avresti lasciato intendere all'inizio un interesse romantico nei suoi confronti, il sentimento che poi lui avrebbe scoperto essere strumentale. Addirittura, mi viene da ridere, veramente. Entro addirittura col cuore rotto e figuriamoci se ho voglia di buttarmi tra le brazze al subito di un'altra persona, ma non è proprio il mio interesse. Probabilmente se hai fatto solo due o tre settimane, rosichi. La verità è quella, la verità è solo quella. C'è una tecolezza molto scomoda che ti riguarda. Eva Enger e Cecilia Capriotti hanno dichiarato che ci avresti provato con Nino Formicola e che lui è stato costretto a ricordarti la presenza della sua compagna a casa. Mi fa sorridere molto questa cosa. Se si arriva a dire queste cose, per me la cosa più importante è il parere del pubblico, non dei naufraghi. Se ci sono persone che si svegliano la mattina e non hanno un obiettivo, non è colpa mia. Ti abbiamo visto anche fare il bagno nuda. Sì, è stato bellissimo perché con Jonathan mi sono in qualche modo sentita di essere libera, mi sentivo libera di agire e dire quello che volevo. Bastare aliche allora? Direi proprio di sì.